Sono Giulia, ho la sclerosi multipla, gioco a palla a volo, ma ora inizio a giocare a sitting. Questo evento, grazie alla fondazione Vodafone Italia, ci permette veramente di far conoscere e di avvicinare le persone al mondo dello sport e della disabilità. Che siano disabili, che non siano disabili, l'importante è partecipare e conoscere questa nuova disciplina. Sono contentissima di partecipare, penso che sia una cosa stupenda da fare, perché dare la possibilità anche a quelli che hanno più difficoltà, che poi non hanno così tante difficoltà, perché sono molto più forti di noi. fanno meno problemi, quindi dare la possibilità a loro di praticare sport, penso sia una cosa bellissima. Noi usiamo, io oso. Noi usiamo tutti insieme perché è un progetto meraviglioso, perché ogni sport ci può portare oltre. Oltre a schiazzare oltre la rete, ma schiazzare anche da seduti, è la cosa molto importante. Deriva poi da una voglia di essere in grado di poter andare dentro il territorio, far divertire, contaminare tutti quanti i ragazzi. Io ho giocato contro la nazionale allenata da Emanuele Fracascia e mi sono divertito. Secondo me la cosa bellissima è che giocando con i ragazzi del sitting ho trovato persone che scherzavano sulle loro problematiche e quindi erano persone contenti, felici di giocare al sitting volley. Vi vedevo proprio che stavano bene assieme, giocavano anche molto bene, infatti abbiamo perso. Proprio non forse sono riuscito a mettere a terra una schiacciata vincente e basta. E quindi devo dire che il sitting volley è speciale, particolare perché aiuta le persone con disabilità a giocare a pallavolo, a divertirsi, a stare insieme. E quindi credo che tutti abbiano il diritto di fare sport. Ci rende veramente tutti uguali, perché comunque siamo tutti nella stessa situazione, sia il norme ruotato che le persone con disabilità. E quindi questa è la particolarità del sitting, è la cosa speciale del sitting. Come ho detto prima l'ho provato anche io, è stato molto divertente e anche appagante proprio dal punto di vista umano. Grazie. Grazie.